Esordio col botto per la Roma che nella prima giornata del Girone B si sbarazza del Pescara con un eloquente 10-1 che fotografa la differenza di valori vista in campo. La squadra di Lucarelli approfitta dell'evidente difficoltà dei pescaresi sulle corsie ed imperversa sulla fascia sinistra per tutta la gara, costruendo da quella zona la maggior parte delle reti. La resistenza degli abruzzesi dura appena due minuti, il tempo che impiega Cantarelli per trafiggere Chicarella, che pure aveva respinto la prima conclusione. Al decimo rosa lanciato a rete d'Anticoli batte ancora il portiere in uscita per il raddoppio giallorosso mentre al quattordicesimo è Giorgi a fare tutto da solo. L'attaccante parte dalla sinistra, si accentra e libera un destro che si infila sul palo opposto. Mancini al diciottesimo scalda il piede e chiama Chicarella all'intervento. Sono le prove generali di un gol che arriverà un minuto più tardi. Giorgi sfonda sulla destra e mette in mezzo per Rosa. Il tiro ciccato dal numero 9 diventa un assist per il compagno, che da due passi non può sbagliare. Il Pescara prova a tornare in partita con Peschetola, che caparbiamente si guadagna un calcio di rigore che lui stesso trasforma, spiazzando Poverini incrociando col sinistro. Palla al centro e la Roma segna ancora con Mancini, che trova la doppietta emulato quattro minuti più tardi da Giorgi. Nella ripresa cambiano gli interpreti, ma non la musica. Modugno apre le danze appoggiando da pochi passi. Palazzino batte un rigore in movimento sul quale Chicarella non può nulla. Il portiere pescarese si arrende ancora al sessantasettesimo, quando Ferrante gira in porta un tentativo di testa di Dico Rato. E al sessantottesimo con Ferrante, che in diagonale firma il decimo gol e regala tre punti alla squadra di Lucarelli, in attesa di impegni più probanti.